Doveva vedere la luce nell'ottobre dello scorso anno, invece sarà molto probabilmente uno dei temi caldi della prossima campagna elettorale. Certo è che il completamento della strada statale bradanica rappresenta una delle ferite aperte sul territorio materano. Per questo il Consiglio Comunale di Matera ha approvato all'unanimità un documento in cui si esprime tutta la preoccupazione per l'andamento dei lavori, ormai sospesi da settimane, i disagi creati alla popolazione e la perdita di posti di lavoro e, allo stesso tempo, si dà mandato al Sindaco Salvatore Adduce, ai consiglieri e tutti gli organi istituzionali di mettere in campo ogni strumento utile per il completamento dell'opera. Una seduta straordinaria aperta, quella andata in scena a Matera, alla quale hanno partecipato sindaci dei comuni limitrofi, sindacati e cittadini. Quella della strada statale bradanica è una storia antica che pensavamo stesse arrivando a conclusione, Una storia antica fatta di tante proteste, ma anche di tante promesse mai mantenute, ha sottolineato Adduce, nel suo intervento durante il Consiglio Comunale, convocato in una seduta straordinaria aperta. Si tratta di una strada strategica, non solo per Matera e la Basilicata. I lavori riguardano il completamento del primo tronco del primo lotto della strada statale. Si tratta di otto chilometri di strada che hanno attraversato diverse vicissitudini. Il cantiere venne affidato all'azienda Intini, poi fallita, a cui subentrò, attraverso il fitto di un ramo di azienda, la Aleandri. L'auspicio di tutti è che si trovi un clima di dialogo e serenità, anche se la strada, come sottolineato dall'atto approvato all'unanimità, in passato è stata spesso tortuosa e l'intervento delle istituzioni è stato decisivo. Tutti ora guardano a questa opera in prospettiva di Matera Capitale della Cultura 2019, perché anche le vie di comunicazione sono fondamentali per la crescita di un popolo e del suo scambio di informazioni con il mondo circostante.